Terrore per una donna di brindisi nel primo pomeriggio di ieri, quando è stata derubata di alcuni monili che aveva in casa dopo essere stata rinchiusa nel bagno. È accaduto intorno alle 14.30 in via Papini nel rione Paradiso. Secondo una prima ricostruzione, la donna di 74 anni ha aperto ingenuamente la porta d'ingresso della propria abitazione a due uomini col volto coperto da passamontagna ma disarmati, che hanno suonato il campanello. Una volta dentro hanno immobilizzato la vittima e rinchiusa nel bagno minacciandola di non gridare, rubandole i gioielli che aveva nascosto dentro una cassa panca. Finito il saccheggio, l'hanno liberata facendo perdere poi le proprie tracce. A quel punto la donna ha invocato aiuto e così immediatamente i vicini hanno allertato il 113 che prontamente si è recato sul luogo per le indagini del caso con i poliziotti della sezione volanti e il personale della scientifica. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna presto il pronto soccorso dell'ospedale Perrino per gli accertamenti dopo il forte spavento. Ma le sue condizioni di salute sono buone. La vittima avrebbe anche riferito di aver subito uno scippo il giorno della pensione, da appurare l'eventuale nesso tra i due episodi. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. Gli agenti della questura di Brindisi sono ora al lavoro per risalire all'identità dei due rapinatori.